Andrà Rubiolo per ideawebtv.it, siamo qui al Palabra Banca di Cuneo dove la nazionale italiana di volley continua la preparazione in vista della World League. Siamo appunto qui con Simone Parodi, giocatore di Macerata, ex giocatore di Cuneo, bentornato Cuneo, ecco spiegaci un pochino cosa state facendo in questi giorni e come procede questo vostro ritiro? Beh guarda stiamo lavorando diciamo abbiamo iniziato a Cavalese questo periodo di preparazione abbiamo fatto due settimane là e adesso abbiamo fatto una settimana che abbiamo trascorso e questa settimana comunque sono settimane ancora di preparazione ma ci stiamo avvicinando comunque alle partite, adesso venerdì giocheremo contro la Francia, poi sabato faremo il Bovodei a Piacenza quindi piano piano stiamo avvicinando però è un periodo abbastanza duro perché stiamo lavorando molto con i pesi, tanto in palestra e niente quindi il ritorno qua a Cuneo è stato molto molto bello perché comunque ho giocato qua tanti anni, diciamo che sono cresciuto quindi è stata una bella esperienza essere qua con la maglia azzurra nel palazzetto che sono stato per tanti anni. Ecco allora vi avvicinate a questo World League, come ci arrivate? Avete avversari di tutto rispetto nel girone, principalmente mi viene in mente la Russia Cosa ti aspetti da questo World League? Quali sono oltre alla Russia gli avversari da non sottovalutare e quelli anzi da temere? Beh guarda, quando si veste le maglie azzurre e si va a giocare in giro per il mondo comunque si affrontano delle squadre di primissimo livello sempre, in qualsiasi circostanza, in qualsiasi torneo adesso affronteremo appunto la World League e il nostro obiettivo, adesso non posso dire che è vincere ma c'è sempre l'obiettivo di vincere e di fare dei buonissimi risultati la squadra è forte anche se abbiamo avuto degli innesti di alcuni giovani però è comunque molto forte, i ragazzi si stanno impegnando al 200% e quindi questa è una buonissima cosa per il proseguo di queste manifestazioni, quindi penso che potremo davvero fare delle ottime partite e secondo me anche ottenere dei buoni risultati Bene, domanda sul tuo futuro, se hai già delle novità, rimarrai a Macerata, si era appaventato un possibile tuo ritorno a Cuneo con le partenze di Socolo Vengape, hai qualche news da raccontarci? Devo dirti che sul mio ritorno a Cuneo ne ho sentito parlare quando sono venuto qua ma sinceramente non ne ho parlato con nessuno della società e non c'era assolutamente nulla in ballo, quindi erano solamente cose giornalistiche o voci che erano in giro, quindi non c'era assolutamente nessuna trattativa e io ho ancora un anno a Macerata e poi vedremo appunto la mia carriera se continuerà a Macerata oppure non so. Bene, allora noi ringraziamo Simone Parodi per la disponibilità, vi auguro in bocca al lupo per questa World League, per l'anno prossimo e faccio un appello ai tifosi perché vengono sempre di più almeno a vedere la nazionale e il ritorno della nazionale a Cuneo. Beh innanzitutto crepi il lupo e poi ai tifosi dico che comunque adesso non so se perfettamente a 19 anni che forse mancava la nazionale a Cuneo e quindi penso che non ci vogliono delle cose che devo dire io perché secondo me dopo 19 anni alla nazionale appunto è la squadra di tutti che torna in questo palazzetto secondo me bellissimo quindi invito tutti a venire ma come ho detto prima penso che di inviti non ce ne siano bisogno anzi vedere questa squadra secondo me è una bellissima cosa per tutti quindi spero che questi spalti siano gremiti per appunto per seguire una squadra che spero che diventi una squadra con un punto di riferimento per tutti gli italiani e non solo.